Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci, e se ci riesci, fammelo sapere nei commenti. C'è l'esperienza contro il talento. Eh sì, indiminisce un po', eh, ci credo. E l'allineamento qua è importantissimo. C'è lontana Marco Muriani. Questa è dura, eh, questa è dura. Vice chiara! Vice chiara! Grazie a tutti.